I don't like it, I love it, love it, love it, oh oh, so good it hurts, I don't want it, I gotta gotta have it, oh oh, when I can't find the words I just go Buongiorno, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi sono qui in compagnia del mio amico zaino, che è pesantissimo e quindi sono qui per farvi vedere cosa c'è nel mio zaino, questo è un video in collaborazione con le passioni di Agatha quindi vi lascio il link di Agatha e del suo canale qui sotto nell'info box, mi raccomando passateci e detto questo possiamo cominciare a farvi vedere cosa c'è nel mio zaino e spero che vi piaccia anche questo innanzitutto partiamo dalla taschina sotto, lo lascio giù perché è davvero troppo pesante da sollevare comunque ci sono un paio di bustine che adesso sono abbastanza in ordine perché è ancora inizio anno ma più si va avanti con i mesi di scuola più queste bustine scompariranno, saranno in disordine, non esisteranno più, non lo so per ora ci sono e comunque sono questa bellissima bustina con il panda che ho preso sul sito mini in the box scrivendo tipo astuccio panda, panda pencil case, una cosa del genere e dentro ci tengo semplicemente i trucchi di emergenza che sono praticamente un blush di Kiko una cipria dell'Avon, un pennellino di emergenza, un eyeliner, un correttore di essence e un mascara di Primark e sono praticamente i miei trucchi di emergenza quindi nel caso mi succeda qualcosa, non riesco a truccarmi a casa o cose del genere boh, me li porto dopodiché troviamo i miei occhiali da sole che li avete visti anche nel video di cosa porto il mio primo giorno di scuola comunque sono questi, molto molto semplici e niente, li porto perché sono la mia salvezza poi sempre nella taschina ho le mie cuffie e questa bellissima bustina con dentro salviette, faccialetti, portalenti e un diodorante non so quanto si veda bene la taschina è finita e passiamo a vedere cosa c'è in quella grande ok, ora sono molto illuminata dal sole, vabbè in questa tasca troviamo miliardi di libri tipo francese, quaderno di letteratura, ma che schifo altri due libri, biologia e letteratura tedesca sì perché io faccio linguistico e quindi ogni mio libro riguarda le lingue e infine storie dell'arte perché sono le materie che avevo oggi a scuola dopodiché troviamo il mio portafoglio che è questo qui rosa preso in un negozio sconosciuto che non saprei dirvi e niente, praticamente qua tengo tutti i ricordi tipo non so, biglietti di entrate a discoteche sì, materie, passione, discoteche avete indovinato e tanti altri bellissimi ricordi che vorrei tenere qua invece, vabbè, troviamo i soldi, la carta d'identità e tutto quanto poi, ultime due cose che vi faccio vedere che sono all'interno del mio zaino sono il mio diario che è questo qui della Legami e dentro è fatto praticamente come un'agenda proprio stessa cosa identico e... boh, niente, mi piace tantissimo e lo adoro e infine troviamo il mio astuccio ok, ho cambiato un attimo inquadratura altrimenti ho avuto tipo il sole in faccia comunque, questo è il mio astuccio è della Ispa ed è questo grigio ed è nuovo e vi faccio vedere tutto ciò che c'è dentro allora, ci sono dei post-it questi qui, molto molto carini poi ci sono evidenziatori quindi giallo, rosa, arancione e verde mi manca quello blu ma davvero non c'era più posto poi ci sono pennarelli su pennarelli quindi quattro pennarelli colorati e un pennarello arancione che uso per sottolineare e infine ci sono un sacco di penne di tutti i tipi tipo verde-rossa, due blu e una nera un righello due matite, un bianchetto un baby lips questo qui è Melon Mania della collezione Vitalin infine un temperino e una gomma e questo è tipo tutto quello che c'è va bene niente ragazzi, detto questo io spero che il video vi sia piaciuto scappo passate dal canale di Agata e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao